Sentivano questi botti, questi missili. Allora poi che succede? Finita la guerra, il re e la regina ritornarono in Italia. Adesso non c'è finita la guerra, buongiorno popolo, io vi voglio commentare. Però il popolo che sapeva come l'aveva fatto il re lo rifiutò e quindi il re non l'ha voluto più, ha detto tu sei andato via quando ci dovevi difendere, adesso noi che siamo senza re non lo vogliamo più. Quindi puoi anche ritornare da dove sei venuto. Ciao ciao, perché si fa? Quando vediamo una persona in difficoltà la dobbiamo aiutare, non che ce ne andiamo, è vero? La dobbiamo aiutare, ci vogliamo volere tutti bene. Allora questo popolo cominciò a pensare che forse era meglio cercare una persona che ci voleva bene. Che comandasse ma che non fosse il re. Che non fosse il re, quindi chi scegliamo? Una persona buona, che pensi al suo popolo e che gli voglia bene. Disponibile per le nostre scelte.